Buongiorno a tutti i telespettatori di Udinese TV, una prima edizione del nostro notiziario di oggi che apriamo con delle immagini che ci arrivano dalla Lombardia, da Milano dove ieri sera il coprifuoco ha riportato il capoluogo della Lombardia, quel silenzio che caratterizzava le settimane del lockdown della scorsa primavera alle 23 quando è scattato il divieto di spostamenti sul territorio regionale deciso dalla nuova ordinanza di governo e regione per limitare il coronavirus. Le strade intorno a Piazza 24 Maggio non erano ancora deserte ma percorse da un paio di tram, qualche auto, taxi, alcuni rider in bici. In pochi minuti, in una quindicina di minuti però tutto è stato chiuso e la città appunto è ripiombata nel silenzio che ha caratterizzato i mesi del lockdown. Negli stessi minuti davanti a Palazzo Lombardia è andata in scena anche una protesta contro l'ordinanza dopo quella del pomeriggio che ha coinvolto alcune centinaia di imprenditori, di ristoranti, bar e locali notturni. Assieme ad alcuni tassisti hanno manifestato una decina di ristoratori fra cui un gruppo di Codogno, il centro dell'Odigiano che in primavera è stato inserito nella prima zona rossa. Codogno non ci sta più lo striscione con cui si sono presentati sotto la sede della regione. E veniamo ai dati che hanno portato anche all'entrata in vigore di queste restrizioni. In Italia anche ieri c'è stato un aumento importante dei nuovi casi di positività al Covid-19. Secondo il bollettino del Ministero della Salute ieri sono stati individuati 16.079 nuovi casi a fronte di quasi 170.400 tamponi. Il rapporto fra casi positivi e tamponi è tornato a salire, ha raggiunto il 9,4%. Tra le regioni al primo posto per numero di nuovi casi appunto la Lombardia con 4.125 nuovi casi seguita dal Piemonte in 1.550 e poi via via tutte le altre regioni. In aumento anche le vittime 136 per un totale che da inizio emergenza sale a 36.968. Veniamo al numero delle persone attualmente positive, 169.302. Di queste 992 sono in terapia intensiva, 66 in più rispetto a ieri, 9.694 sono ricoverate negli altri reparti degli ospedali, 158.616 sono in isolamento domiciliare. E veniamo adesso ai dati del Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso il riferimento è il bollettino diffuso dalla Protezione Civile nel pomeriggio di ieri. Nelle ultime 24 ore in regione ci sono stati 220 nuovi casi di Covid-19 e c'è stata anche una vittima. Il totale delle persone attualmente positive è pari a 2.246. 14 le persone in terapia intensiva, sostanzialmente stabili. Salgono invece le persone ricoverate negli altri reparti degli ospedali, 83. 2014 le persone in isolamento e poi vediamo il numero dei tamponi che ieri ha superato quota 5.5510. E questi sono giorni di attesa per tante attività, a cominciare dalle palestre, osservate speciali in questa settimana, ha detto il Premier Conte negli giorni scorsi quando ha illustrato le nuove misure dell'ultimo DPCM e ha preannunciato anche eventuali nuove strette nel caso in cui la situazione peggiori. Noi ci colleghiamo subito con la nostra truppa esterna, con la nostra Monica Nardini, che si trova proprio in una palestra per raccontarci un po' gli umori che si respirano in questi giorni. Valentina Bearzi, a te la linea. Buongiorno Angela, sì hai detto bene, sono momenti difficili questi per tante attività e soprattutto per le palestre che devono scontare una diffidenza da parte di attività per rendere la situazione in sicurezza per chi deve accedere e sfruttare questo tipo di attività. Sono con Michela Potenzione all'interno della palestra Curves di cui è titolare a Lauzacco e le chiedo intanto come state vivendo anche il nuovo decreto del governo? Allora, intanto abbiamo messo in regola da maggio e abbiamo preso tutte le precauzioni, abbiamo fatto la segnaletica a terra con i percorsi, abbiamo distanziato tutte le macchine e quindi abbiamo fatto tutto quello che era possibile per mantenere diciamo la sicurezza dei clienti. E da quel punto di vista invece dell'accesso dei clienti alla palestra che sensazione avete nei confronti di come si pongono nei confronti dell'attività sportiva? Beh, diciamo che c'è un po' di paura, questo è chiaro, le clienti che ci conoscono da tanto tempo, che hanno vissuto la nostra palestra, vedo che continuano a frequentare, sono contente, anzi hanno piacere di venire perché comunque è una valvola di sfogo, quindi indubbiamente la palestra fa bene, proprio anche a livello mentale, ovviamente chi non ci conosce, chi magari non frequenta l'ambiente delle palestre è ovviamente frenato e questo comunque questa situazione ci ha creato un danno perché non solo a noi ma vedo per tutti insomma una limitazione degli ingressi, cioè si vede, si nota e quindi è una situazione sì, non bella. Diamo allora un messaggio di fiducia anche per chi deve frequentare o vuole frequentare una palestra, come dice lei fa anche bene allo spirito, quali sono i provvedimenti che voi prendete quotidianamente? C'è uno sforzo ingente da parte vostra per garantire la totale sicurezza di chi frequenta un ambiente come questo? Per noi e soprattutto per lo staff ci avessimo delle cose, il conteggio delle persone che sono all'interno, dover prendere la misurazione della febbre, quindi c'è molto sforzo da parte nostra, molto impegno e vogliamo che praticamente le persone capiscano che la palestra non è un ambiente ricoloso, anzi è molto sanificato, noi sanifichiamo praticamente tutto, anche le docce ogni qualvolta vengono utilizzate, quindi a livello di dispositivi di igienizzazione e quant'altro abbiamo anche un'uscita sostanziosa che praticamente si accompagna anche l'attività dei dipendenti. Esatto, quindi anche sempre noi manteniamo sempre un turno di due ragazze proprio per garantire un massimo controllo, alle volte siamo anche in tre perché nei momenti magari un attimino di più affollamento dobbiamo gestire queste persone. Quante persone possono entrare? In questa struttura noi possiamo far entrare al massimo 14 persone, poi queste hanno delle limitazioni interne, quindi negli spogliatoi non dovranno essere ovviamente, c'è un numero massimo e nell'attività sportiva, nella sala dell'attività c'è un altro numero, una capienza massima, ecco. Quindi c'è il distanziamento, c'è la sanificazione? Sì, c'è tutto quello che anche secondo me va oltre ogni cosa, cioè noi comunque ci teniamo che le clienti vengano qua sicure e escano contente e così è, per cui noi proprio ci impegniamo al massimo per questa cosa. Qual è la vostra speranza nei prossimi giorni? Che le persone capiscano che le palestre non sono, non è un luogo affollato, che vengono gestite correttamente dai gestori e quindi io vorrei dire venite in palestra perché non c'è nulla per cui preoccuparsi e quindi vi aspettiamo. Se volete potete venire anche a vedere quello che facciamo. Tante persone sono, ecco, dopo il primo lockdown, tante persone sono venute a vedere cosa facevamo. Noi avevamo già preso tutte le precauzioni che adesso comunque ci impongono, quindi... e hanno visto e si sono convinte di quello, di com'è gestita. Allora noi rilanciamo questo invito, affidatevi a chi si occupa di questo professionalmente. Grazie a Michela Potenzone, grazie a tutto il personale della palestra Curves di Lauzacco. Angela, di nuova te la linea. Grazie a Valentina Vearzi e alla nostra truppa esterna. Adesso continuiamo a parlare di coronavirus. Girandovi un appello del sindaco di Sappada, Manuel Piller-Hoffer. Sappiamo Sappada, un comune nel quale sono stati introdotti delle limitazioni proprio dal sindaco a seguito dei numerosi casi di coronavirus. Il sindaco sulla propria pagina Facebook rinnova l'invito a tutti i cittadini di Sappada a eseguire i tamponi. Ricordo che fare il test è in primis un gesto di responsabilità verso la comunità poiché ognuno di noi potrebbe essere asintomatico e inconsapevolmente trasmettere il virus a un nostro compaesano che a sua volta potrebbe invece avere conseguenze sanitarie importanti. Vi chiedo di presentarvi con il foglio compilato, dice il sindaco, rispettando il vostro orario per non intasare l'area tamponi. E a proposito di tamponi e di aree intasate, a Oderzo si sta registrando in queste ultime ore un sovraffollamento al punto tamponi, come ci racconta nel prossimo servizio Rosario Padovano. Situazione scandalosa e imbarazzante al punto tamponi di Oderzo, dove le code sono chilometriche. L'ex foro Boario e la cartina di Tornasole di come si sta muovendo il contagio negli ultimi giorni. Le file sono lunghissime, sebbene sia stato adottato uno spostamento in un punto più centrale del parcheggio per impedire che il traffico rimanga bloccato sulla strada postumia. È opportuno sottolineare, come sia stata tempestivamente indovinata da parte dell'amministrazione comunale, la scelta di questo spostamento. Ora però la pressione è notevole perché non serve nemmeno la prenotazione. Chi ha paura di aver contratto il contagio si mette in coda, ma questo potrebbe essere anche un veicolo stesso di contagio. Sul piazzale dell'ex foro Boario sono state create più file a seconda delle priorità. Le code possono raggiungere anche i 2-3 chilometri e le attese le 3-4 ore. Pazienza, tanta pazienza Oderzo, ma fare il tampone è necessario. C'è un altro invito, quello che arriva dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che chiede alla cittadinanza, per quanto possibile, di usare in modo responsabile il pronto soccorso, grazie anche alla collaborazione dei medici di base che svolgono un'importante funzione di filtro per le patologie minori e per quelle croniche. In questi giorni, si legge in una nota dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, il numero di accessi ai pronto soccorso si mantiene importante, anche se non ha mai raggiunto i livelli del periodo pre-covid. Attualmente accedono ai pronto soccorso una media di 160-170 pazienti al giorno, con una prevalenza di codici di accesso bianco e verde, 50% codici verdi, 25-30% codici bianchi e solo 20-25% codici giallo e rosso. È costante l'impegno del personale nel far rispettare le regole di sicurezza del percorso e di distanziamento tra gli utenti. Tuttavia, sottolinea ancora l'azienda sanitaria, gli spazi non modificabili della struttura e il riscontro occasionale di tamponi positivi in pazienti assolutamente asintomatici rendono quanto mai arduo garantire la sicurezza di tutti gli assistiti nelle sale d'emergenza. E a proposito di nuovi contagi, salgono i positivi anche oltre confine. In Slovenia si sono registrati nuovi record di contagi nella giornata di mercoledì, con 1.663 positivi, il 10,4% in più, il numero più alto da inizio epidemia. Secondo i dati resi pubblici dal portale Covid-19 Tracker Slovenia, nel paese ci sono attualmente 10.136 casi di persone positive, più 14,4%, con 357 persone ricoverate in ospedale, 62 in terapia intensiva, più 12,7%. Anche in Croazia si registrano nuovi record di infezioni e decessi. 1.563 casi di contagio nelle ultime 24 ore e 13 decessi. E vediamo anche i dati che ci raccontano e ci fotografano l'andamento di questa epidemia nel mondo. Ecco il sito della Johns Hopkins University che ci aggiorna sul numero dei contagi globali che hanno superato i 41 milioni da inizio epidemia, 41.713.314. E poi vediamo le vittime, anche in questo caso, l'abbiamo visto, è stato superato il milione di morti, 1.137.410. Al primo posto di queste classifiche ci sono gli Stati Uniti, un primato sicuramente da non sfoggiare, un primato del quale non c'è nulla da essere orgogliosi. E si è parlato anche di coronavirus. Nel dibattito di ieri sera tra Donald Trump e Joe Biden, l'ultimo confronto fra i due candidati alla presidenza della Casa Bianca, questa volta Donald Trump ascolta i suoi consiglieri e anche se scuro in volto disputa l'ultimo duello TV con Joe Biden mostrandosi più distaccato e meno guastatore. Ma la fine del dibattito, a 12 giorni dalle elezioni, non sembra aver assestato colpi letali in grado di cambiare la traiettoria di una gara che vede il suo rivale avanti in tutti i sondaggi. Anche perché l'ex vicepresidente, con il sorriso e la serenità di chi sente già in tasca la vittoria, ha retto bene gli assalti, ha contrattaccato efficacemente e soprattutto non ha commesso una delle sue frequenti gaffe. Secondo il sondaggio della CNN, l'ultimo dibattito è stato vinto da Biden per il 53% degli americani. Al presidente incarica solo il 39% delle preferenze, secondo ovviamente la rilevazione della CNN. E passiamo adesso alla cronaca con un'operazione della Polizia Postale delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia che ha interessato tutta l'Italia, un'operazione contro la pedopornografia che ha portato alla denuncia di 13 persone per detenzione di materiale pedopornografico nell'ambito di questa indagine che ha interessato sette regioni del nostro paese che ha portato al sequestro di materiale informatico. A Pepito il nome è in codice di questa operazione come il vecchio fumetto degli anni 50 per dimostrare un po' il cambio di attitudine dei giovani che dai fumetti sono passati al web. I dettagli nel servizio di Luciano e Delfonso. 13 persone denunciate per detenzione di materiale pedopornografico. Il sequestro di nove smartphone, un tablet, sette hard disk, tre personal computer, alcune pen drive e account mail che verranno sottoposti al più presto ad approfonditi accertamenti. E questo è il bilancio di una complessa indagine condotta dal compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia coordinata dal servizio della Polizia Postale di Roma sotto la direzione della Procura della Repubblica di Trieste scattata martedì 20 ottobre e che ha interessato diverse città italiane. Le perquisizioni sono avvenute in Campania, Emilia Romagna, Marche, Lombardia, Piemonte e Veneto. Gli investigatori della Polizia Postale di Udine hanno rilevato un sito con immagini illecite dal contenuto sessualmente esplicito di giovani adolescenti coinvolti in atti sessuali e in altri casi in pose erotiche senza veli. Da attente analisi e approfondimenti sono successivamente emerse chat e commenti all'interno di una comunità virtuale su file pedopornografici che coinvolgevano ragazze molto giovani, anche tredicenni. Gli indagati, tutti uomini di diversa età, attraverso chat avanzavano anche la richiesta di ulteriori informazioni sulle ragazze, tra cui la nazionalità, l'età, il nome, ma anche la visione di atti sessuali. Addirittura è emersa l'esistenza di un catalogo di immagini e video a carattere sia pornografico che pedopornografico, soprannominato la Bibbia 3.0, dal quale dietro pagamento era possibile lo scaricamento del materiale digitale. Per incastrare i responsabili è stata preziosa la collaborazione internazionale con le autorità giudiziarie statunitensi e la visione di centinaia di transizioni finanziarie dei conti PayPal che hanno consentito di individuare sia il gestore del sito che alcuni utenti. E continuiamo con la cronaca, parliamo degli incidenti sulla A4. Il tratto Sandona-Porto-Gruaro è risultato essere il più pericoloso di tutti, secondo uno studio realizzato dalla Fondazione Think Tank Nord-Est. Sentiamo Rosario Padovano. L'unico tratto a due corsie dell'autostrada A4, quello tra Sandona di Piave e Porto-Gruaro, sulla Venezia Trieste, è anche il più pericoloso di tutto il Nord-Est perché si verifica il maggior numero di incidenti. I rimedi per diminuirne il numero sono due, completare rapidamente la terza corsia e realizzare il casello di Bibione. A queste conclusioni giunge uno studio della Fondazione Think Tank Nord-Est che lo rende noto il giorno dopo il drammatico incidente di San Stino di Livenza dove ci sono ancora due corsie in cui è rimasto gravemente ustionato un'automobilista. I dati presi in esame si riferiscono al 2019. Sulla A4 Venezia Trieste si sono verificati una media di 6,9 incidenti ogni 100 milioni di chilometri percorsi e in questa statistica ricadono anche il tratto di A23 Udine-Palmanova, l'A28 Porto-Gruaro-Conegliano, l'A34 Villesse-Gurizia. Think Tank chiede di adeguare la dotazione infrastrutturale di queste zone in considerazione del traffico pesante e dei flussi turistici che restano enormi, ancora di più in questo periodo dove si sceglie di viaggiare in macchina per evitare il coronavirus. Il Veneto orientale continua a soffrire un deficit infrastrutturale importante ha lamentato Antonio Ferrarelli, presidente della fondazione Think Tank Nord-Est. Solo realizzando terza corsia rapidamente il casello autostradale a Bibione collegato al progetto di secondo accesso alla spiaggia potranno risolvere gran parte di questi problemi. E ci auguriamo, conclude, che la Giunta regionale del Veneto appena insiedata presti attenzione alle richieste spesso inascoltate provenienti proprio dal Veneto orientale. Rimanendo in autostrada, è prevista una maxi chiusura di 20 ore nel tratto La Tisana-Porto-Gruaro dalle 19 di domani alle 15 di domenica su entrambe le direzioni. La chiusura è decretata per completare due opere complesse e innovative che rientrano nell'ambito dei lavori della terza corsia. La prima riguarda il varo della campata centrale del cavalcavia Teglio-Fratta. L'altra opera riguarda l'installazione di una canna armata, un manufatto di calcestruzzo che consente il collegamento dei fossi da nord a sud. Il fine è raccogliere l'acqua piovana a pochi metri dal Lemene. La pagina sportiva adesso parliamo di calcio di Fiorentina-Udinese. Una partita tra due squadre che cercano risposte. I Viola vogliono riscattarsi dopo le ultime opache prestazioni. I Bianconeri invece vogliono continuare a fare bene dopo aver trovato la prima vittoria stagionale contro il Parma. Sentiamo il servizio di Alessandro Surza. Giornata di antivigilia per l'Udinese che domenica sera al Franchi affronterà la Fiorentina alle ore 18 nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Una gara importante per entrambe le squadre che fin qui nel complesso non sono state protagoniste di partenze memorabili. La Viola si è persa dopo la vittoria all'esordio contro il Torino e nell'ultimo turno si è fatta rimontare due reti. Dallo Spezia l'Udinese invece dal canto suo ha finalmente trovato la prima vittoria stagionale dopo un inizio da incubo con tre KO consecutivi entrambe. Quindi cercano risposte i toscani, vogliono rilanciarsi i friulani, attendono conferme e in casa Udinese giungono notizie confortanti dall'infermeria che si sta finalmente svuotando. Dopo settimane in cui c'era stato un incredibile affollamento Wallace è ormai recuperato al 100%, ha svolto tutto l'allenamento coi compagni ed è abile e arruolabile per la trasferta toscana. Un rientro che farà senz'altro piacere a Gotti che a distanza di quasi un mese ritrova l'ex Hannover che si era fermato proprio alla vigilia della prima gara di campionato contro il Verona. Una soluzione in più quindi per un centrocampo che sta crescendo di partita in partita e sempre a centrocampo. Vanno segnalati anche i progressi di Mandragora anche se è chiaro che per lui ci vorrà ancora un po' di pazienza. Ok, anche Larsen che piano piano sta aumentando i giri del motore e si sta avviando verso il completo recupero. L'udinese quindi può iniziare a sorridere in vista della trasferta di dopodomani in terra toscana. Una terra, quella colorata di viola, che l'udinese non espugna. Da 13 anni potrebbe essere la volta buona per invertire la rotta. Siamo in chiusura, vi lasciamo alle previsioni del tempo e poi ci rivediamo alle 12 per la prossima edizione live del nostro TG. A più tardi. Amici di Udinesi TV, bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Tornano nuvole e piogge questo venerdì in gran parte del nord Italia, anche in Friuli, Venezia e Giulia. Perturbazione particolarmente insistente. Cioè le piogge non saranno di forte intensità ma a partire dal pomeriggio comincerà a piovere in maniera piuttosto battente. Sarà la classica pioggerella autunnale. Guardate, giornata più da novembre che da ottobre volendo. Entriamo più nel dettaglio, guardiamo cosa accadrà su Pordenone e Udine con tante nuvole, appunto anche qua ritorno di piogge diffuse dal pomeriggio, ripeto, quindi nella seconda parte della giornata. E temperature piuttosto contenute, non si va oltre i 15-16 gradi. Situazione del tutto analoga anche tra Gorizia e Trieste, quindi anche qua tempi in progressivo peggioramento. L'unica cosa magari a Trieste qualche grado in più. Per sapere comunque nel dettaglio cosa capiterà proprio da voi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.